Un evento benefico del Rotary Club con la Commedia Divina, Dante in Parola e Musica. L'appuntamento è per martedì 18 aprile alle 19 presso la chiesa Santa Maria della Pieve. È un concetto veramente raro perché le musiche su versi di Dante sono molto, molto rare, si contano sulle dita di una mano. Il verso dantesco, l'endecasilabo dantesco è praticamente refrattario ad essere messo in musica. Dante ha suscitato situazioni musicali ma non ha offerto versi per la musica. Il maestro Giannino Giannini, che è un abile compositore, ha scritto invece una cantata chiamata Divina Comedia. Comedia è il titolo che Dante stesso dà al suo poema, è Comedia. Sono una scelta di episodi significativi, di personaggi, musicata per big band, quindi con molto colore, di strumentini, di ottoni, percussione. Quindi non è una cosa noiosa. Ed è uno spettacolo veramente di grande elevatura culturale e ripeto raro perché versi di Dante messi in musica non ce ne sono importanti. Il ricavato sarà destinato ad un service per la Casa Pia in vista dell'acquisto di un letto antidecupito. malattisti decupito.